Signore Ettore, signore Presidente del Consiglio dell'Università, membri e amici dell'Università, tra i cantoni svizzeri il Ticino è forse quello più mediterraneo ed è un grande onore per me essere stato invitato qui oggi per parlare del passato e del futuro del Mediterraneo. La mia questione fondamentale è come l'assunzione di una prospettiva storica allo studio del Mediterraneo possa aiutarci a capire alcuni tra i più importanti dilemmi dell'età contemporanea. La storia del Mediterraneo rivela lunghe fasi di integrazione economica. e più brevi periodi di disintegrazione, a volte catastrofici e caratterizzati da gravi contrazioni economiche e disgiunture politiche. Visto da questa prospettiva, il Mediterraneo è al momento frammentato, tanto che alcuni storici hanno persino parlato della morte del Mediterraneo. A dire il vero, questa è una vera e propria deviazione dal carattere vero del Mediterraneo, un carattere che si è costruito nel corso dei secoli, per non dire millenni. Il grande paradosso è che anche se la globalizzazione sembrerebbe unire i paesi del mondo, regioni che si trovano a essere vicine, sono in realtà più lontane che mai da un punto di vista politico ed economico. La sfida è saper ricondurre le spiagge del Mediterraneo a interagire creativamente nel contesto delle arene politiche, economiche e culturali, e far sì che un Mediterraneo integrato e sicuro sia di nuovo possibile. Nel suo insieme e nel corso della storia, il Mediterraneo ha sempre avuto un grande potenziale economico. Durante le fasi di integrazione, la somma delle sue parti è sempre stata notevole. Questo processo di integrazione può essere rintracciato a partire del X secolo a.C., quando i Fenici stabilirono reti commerciali che abbracciavano l'area compresa tra lo stretto di Gibilterra e la loro patria, che oggi è il Libano, facendo base a Cartagine, vicino a Tunisi, base che rappresentò una delle più importanti piazze forti e commerciali dell'antico Mediterraneo. Ai Fenici seguirono rapidamente le flotte mercantili delle città greche e etrusche, una tomba etrusca, e si potrebbe forse sostenere che le città etrusche, la cui ricchezza era in parte fondata sul commercio mediterraneo, siano state le prime vere città europee. Entro il primo secolo d.C., dopo la soppressione della pirateria da parte delle flotte romane, la Tunisia e l'Egitto iniziarono un significativo e regolare traffico per rifornire di grani e vivere l'antica Roma, anche se nessun'altra potenza ha ottenuto il successo dei romani in termini di espansione e controllo politico sul intero mare, che per centinaia di anni è stato infatti denominato Mare Nostro. Dobbiamo comunque ricordarci che questo sistema collasso un po' di secoli dopo, e anche se gli storici discutono della natura ed estensione di ciò che ai giorni nostri viene chiamata la caduta dell'impero romano, un elemento cruciale di questo quadro fu la migrazione di massa di popolazioni germaniche, e non, nonché la distruzione di quella unità politica che aveva permesso alle reti di rapporti commerciali e politici costituisi nel Mediterraneo di funzionare con successo. Ai giorni nostri, tuttavia, i paesi che si affacciano sulle spiagge del Mediterraneo e del Nord guardano soprattutto a Bruxelles, o forse a Berlino, o a Francoforte, al fine di trovare una soluzione ai loro problemi economici. Questi paesi hanno fondamentalmente voltato le spalle al Mediterraneo alla ricerca di un'identità che è in primo luogo europea e solo in secondo luogo mediterranea. Ma a seconda che le condizioni siano giuste o sbagliate, l'interdipendenza economica può essere in grado sia di ridurre che di intensificare tensioni di natura politico-economica. Per esempio, varie sono state le controversie recenti sul tema delle risorse energetiche che si trovano nei fondali marini della costa cipriota, risorse per cui gli stati della Turchia, Israele, Cipro, Siria e Libano hanno tutti espresso, ovviamente senza sorpresa, un certo interesse. Esiste un'altra caratteristica storica del Mediterraneo che bisogna enfatizzare e che può aiutarci a comprendere alcuni dilemmi odierni. Il Mediterraneo ha rappresentato il punto d'incontro delle tre religioni abramitiche. La loro interazione è stata sempre irregolare, a momenti intensa o ostile, pur mantenendo sempre un lato creativo. Un punto di riferimento comune è rappresentato dall'Andalusia o Spagna musulmana nel X e XI secolo, quando gli ebrei occupavano posizioni significative alle corti di califi e emiri musulmani. Questo è Madinah Zahra vicino a Cordoba, il palazzo dei califi vicino a Cordoba. Come prova della mancata integrazione del Mediterraneo potremmo pensare alle crociate oppure alle grandi guerre ottomano-asburgiche del Cinquecento. Dall'altro lato, però, si potrebbe invece pensare ai lunghi intermezzi pacifici durante i quali i mercanti, sia cristiani che ebrei, si stabilirono nelle colonie commerciali delle coste dell'Africa del Nord e del Levante, e al fatto che i consumatori occidentali comprassero spesso beni provenienti dal Mediterraneo, come seta o zucchero, o beni che lo avevano semplicemente attraversato, come le spezie provenienti dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano. In questo quadro, le comunità di mercanti veneziani, genovesi, fiorentini, catalani, costruirono quelle istituzioni e infrastrutture commerciali che conosciamo oggi come banche, assicurazioni e diritto marittimo, mettendole al servizio delle proprie reti commerciali che abbracciavano il Mediterraneo nel suo insieme, un'immagine di Genova. Inoltre, la storia del Mediterraneo ci mostra come le barriere religiose non fossero né dovessero essere considerate come barriere di natura commerciale. Tutta questa attività commerciale creò una serie di diaspore nell'area mediterranea e in questo contesto che è emersero città portuali cosmopolite, la cui funzione era quella di ospitare comunità di individui di diverse religioni, origini etniche e sembianze culturali. Il caso più estremo di città cosmopolita del Mediterraneo, dell'Est, è Alessandria, in Egitto, a partire dalla sua data di fondazione per mano di Alessandro il Grande nel IV secolo a.C. All'inizio del XII secolo gli europei rappresentavano il 15% della popolazione di Alessandria pur controllando la maggior parte del potere economico. Nel 1927 la città di Alessandria ospitava circa 49.000 cittadini greci e 24.000 italiani. Trasversalmente a gruppi di varie nazionalità c'erano anche 25.000 cittadini ebrei. Dalla Turchia, Albania, Siria e Libano provinevano famiglie musulmane influenti, tra cui la famiglia Reale. Queste famiglie, così come colonie di origine europea, si identificarono fortemente con la cultura europea, nello specifico francese, in una fase che lo storico inglese Christopher de Beleg ha recentemente definito come illuminismo islamico. Non è un caso che proprio uno dei governatori dell'Egitto occidentesco, Ismail Pasha, avesse espresso il desiderio che l'Egitto diventasse parte dell'Europa. I movimenti nazionalistici che si costituirono all'interno dell'altrimenti molto etnico impero ottomano, a partire dal movimento nazionalista greco di inizio ottocento, misero in crisi questa mentalità pluralista. In un'epoca di nazionalismo imperante, le espulsioni, le fughe dal pericolo, l'assimilazione forzata, lo sterminio di massa, come nel caso della comunità sefardita di Salonico, trasformarono una città dopo l'altra in vecchi reami ottomani. Ad esclusione di Beirut, entro gli anni 50 del Novecento, le città portuali del Mediterraneo orientale cessarono di essere roccaforti di coesistenza pacifica. Nell'Ottocento, la sovranità ottomana nell'Africa del Nord, teorica piuttosto che reale, fu rimpiazzata da poteri coloniali di vario genere, esercitati da alcuni stati dell'Europa occidentale, un piccolo angolo nel lontano ovest, sotto il controllo della Spagna, grandi distesi di territorio per Francia e Italia e l'influenza schiacciante dell'Inghilterra in Egitto. Al tempo del colonialismo, iniziato con la conquista francese dell'Algeria nel 1830, il Mediterraneo assistette alla costituzione di nuove relazioni egemoniche, caratterizzate dall'insistenza sull'ipotetica superiorità della civilizzazione degli abitanti del Mediterraneo del Nord rispetto a quelli del Sud, un'immagine della conquista di Libia. Al tempo della fondazione del protettorato francese in Tunisia, nel 1881, la regione aveva già 70.000 coloni italiani, molti dei quali siciliani, e 12.000 coloni dalla piccola isola di Malta. Durante la fase di decolonizzazione, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, le colonie europee dell'Africa del Nord funsero da casa per più di un milione e mezzo di coloni provenienti da Francia, Spagna, Italia e altri luoghi, con un milione solo in Algeria. solo una minoranza dei coloni algerini potè dichiararsi di origine francese, e la percezione di avere origini comuni latine, ma non francesi, si riflettava nel vanto coloniale che i colonizzatori stessero in un certo senso ripristinando la latinità del Mediterraneo, 15.000 anni dopo l'accaduto dell'impero romano, problema che emerge chiaramente nei famosi studi di Fenon Brodel sul Mediterraneo nel Cinquecento. Un'immagine di De Gaulle in Algeria. Tuttavia, i discendenti dei coloni sarebbero ripartiti per l'Europa nella seconda metà del ventesimo secolo assieme a un numero significativo di abitanti locali, molti dei quali si stabilirono nei paesi del Mediterraneo del Nord e soprattutto nel sud della Francia. Le tensioni generate nell'Africa del Nord durante le fasi di decolonizzazione si trasferirono nel tessuto sociale di città come Nizza e Marsiglia. L'emancipazione dei colonizzati dai colonizzatori nella seconda metà del ventesimo secolo ha avuto molte conseguenze importanti, in particolare la divisione del Mediterraneo tra Nord e Sud, aree che comunque continuano a restare in gran misura separate le une dalle altre. Un tempo celebrato quali luoghi di incontro tra culture, religioni e persone diverse, città come Algeria e Alessandria sono ai giorni d'oggi monocrome, abitate quasi esclusivamente dalla popolazione dell'entroterra. Sostenere ciò non equivale a difendere i colonizzatori, le cui azioni furono controproducenti e brutali, soprattutto in Algeria. Il processo di decolonizzazione coincise con il tentativo dell'Unione Sovietica di affermarsi nel Mediterraneo attraverso la creazione di alleanze politico-economiche. Tali alleanze non fecero altro che accentuare le già esistenti tensioni nel Mediterraneo dell'Est, in particolare quelle tra Israele e i vicini stati arabi. Gli ebrei sparirono da tutte quelle terre mediterranee dove avevano rappresentato una delle parti più produttive della società, migrando verso un Israele sotto attacco, a volte verso la Francia e così concludendo duemila anni di diaspora mediterranea. Da questa prospettiva di lungo periodo, la creazione dello Stato di Israele rappresenta un altro episodio nel contesto della frammentazione del Mediterraneo in entità nazionali, in una fase in cui gruppi etnici e religiosi diversi si stavano ritagliando i propri territori e persone tra cui i greci e i turchi venivano messe da parte al tempo degli scambi di popolazioni degli anni venti del novecento. Come abbiamo avuto modo di scoprire, il processo di segregazione religiosa e etnica continua ancora adesso. In seguito alla disintegrazione della Siria, Stato in cui gruppi religiosi diversi hanno sempre conduto di un certo livello di protezione ufficiale. Ogni giorno assistiamo virtualmente a come le disugualianze in termini di ricchezza tra il nord e il sud del Mediterraneo abbiano stimolato un intenso illecito e pericoloso traffico marittimo di esseri umani, un traffico che sembra impossibile da controllare. Dobbiamo comunque ricordarci che questo traffico era già molto fiorente prima del collasso della Siria e delle persecuzioni in Iraq e in altri stati ancora più a est. Il Mediterraneo è diventato il teatro in cui molti migranti dell'Africa subsahariana hanno tentato spesso al costo delle proprie vite di raggiungere le ricche terre dell'Unione Europea. Queste ondate migratorie sono apparti in congiunzione con migrazioni a partire dal Nord Africa e in particolare dalla Libia al tempo degli odierni sollevamenti così come con fenomeni migratori orientati verso il Mar Egeo e oltre dall'introterra dell'Asia occidentale. La migrazione dei popoli dell'Africa subsahariana verso il sud sembra destinata a crescere in un momento in cui i cambiamenti climatici mettono in discussione la stessa possibilità di vita nelle regioni della Savanna. In modo altrettanto significativo le ampie masse di giovani migranti dell'Africa occidentale del Nord e del Medio Oriente solitamente costruite da ventenni con un livello di istruzione medio-alto tuttavia disoccupati e senza opportunità di sorta ha alimentato quello che sembra un flusso inaristabile di migranti nel Mar Mediterraneo sia che vengano dalla Turchia o dalla Libia verso la Grecia e l'Italia e infine così spererebbero verso la Germania la Svezia e altri luoghi. Dico ciò senza negare che le guerre civili in Siria Libia e Iraq abbiano creato senza dubbio la più grande crisi umanitaria dopo la seconda guerra mondiale. Tale fenomeno migratorio accompagnato da pericoli e umiliazione è in netto contrasto con un altro tipo di fenomeno migratorio che è pure dominante nel Mediterraneo moderno. Pur essendo temporaneo questo tipo di migrazione è ugualmente trasformativo essendo caratterizzato dal movimento di persone dall'Europa del nord verso il Mediterraneo alla ricerca del sole estivo un fenomeno di massa iniziato alla costa brava di Spagna un fenomeno di massa iniziato alla fine del ventesimo secolo e che ha trasformato l'industria locale il mercato del lavoro l'apparenza fisica e persino le norme sociali e culturali delle città e dei villaggi delle coste mediterranee di Spagna Francia Italia Turchia Tunisia Israele e di altri paesi mediterranei sul breve periodo il turismo porta senza dubbio grande prosperità ma i suoi effetti ambientali sono significativi e questo è un tema su cui ritornerò presto quello a cui assistiamo è l'interdipendenza tra l'industria del turismo e le economie dell'Europa del nord uno scenario che porta ulteriore fragilità nelle economie della maggior parte dei paesi del Mediterraneo in particolare in fase di sollevamenti politici quando destinazioni in tempo popolare diventano improvvisamente inaccessibili come Tunisia come l'Egitto nel frattempo le terre dei fianchi del Mediterraneo e del nord si identificano sempre più con l'Europa voltando le spalle al Mediterraneo al fine di partecipare alle più forti economie dell'Unione europea lontano dal Mediterraneo le debolezze dei paesi mediterranei che sono allo stesso tempo parte dell'Unione europea hanno semplicemente incrementato il senso di un Mediterraneo fratturato tre o quattro anni fa avremmo detto che se esiste un'economia in crescita nel Mediterraneo dovrebbe essere quella della Turchia uno stato che sta ancora definendo il proprio ruolo all'interno dell'area mediterranea i suoi rilevanti tassi di crescita sono immersi in forte contrasto con la situazione in Grecia e hanno rappresentato una performance economica simile ai paesi del Baltico e migliore rispetto a Romania e Bulgaria questa crescita non si è tuttavia rivelata sostenuta inoltre il segreto del breve successo economico turco è stato negli scambi non tanto con il Mediterraneo quanto con la Germania la seconda economia di successo del Mediterraneo è quella israeliana che ha una storia alquanto significativa per la creazione di start-up nel settore delle alte tecnologie comunque l'integrazione di Israele in reti economiche più ampi nel contesto del Mediterraneo orientale è stata significativa limitata dal suo isolamento politico il problema principale è come ricostruire la relazione tra il nord e il sud del Mediterraneo è interessante quanto sia Francia che Cina che i paesi arabi abbiano investito nella Tunisia alla vigilia della primavera araba anche se tali successi si sono poi rivelati precari con la costruzione del gigantesco nuovo porto di Tangeri Med il governo del Marocco sta cercando da una parte di arricchirsi con i traffici provenienti dallo stretto di Gibraltar e dall'altra di sfidare apertamente il porto spagnolo di Algeciras nel lontano 1987 il Marocco cercò di entrare nell'Unione Europea eppure ricevendo un più che ha aspettato rifiuto e a tutt'oggi legato all'Unione Europea attraverso una serie di accordi tuttavia la crescita economica del Marocco non procede ancora di pari passo con i miglioramenti delle condizioni di vita della maggioranza della popolazione urbana e rurale sia l'Algeria che la Libia sono caratterizzati da problemi analoghi anche se a differenza del Marocco possono beneficiare dalla presenza di risorse energetiche significative non possiamo ignorare i recenti tentativi di unire i paesi del Mediterraneo in una lega che fosse in grado di affrontare problemi comuni indipendentemente dalle divergenze di natura politica la prima iniziativa di questo genere fu il cosiddetto processo di Barcellona nel 1995 in cui furono coinvolti sia i paesi del Mediterraneo sia tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea tuttavia i piani per creare un'area libero marcato nel Mediterraneo entro il 2010 sono rimasti a livello di progetto l'idea di una Unione Mediterranea non si è rivelata una possibilità concreta anche se è innegabile che tutte le nazioni mediterranee debbano affrontare gli stessi urgenti problemi la protezione dell'ambiente marino nel Mediterraneo è un problema particolarmente importante dato che proprio questo ambiente ha sperimentato cambiamenti catastrofici di grande portata causati da un uso eccessivo della pesca come se il mare fosse una fonte illimitata di vivere e dallo scarico di plastica rifiuti vari come se il mare fosse una grande di scarica non c'è bisogno di aggiungere che il problema ecologico possa essere risolto soltanto attraverso una collaborazione impegnativa su una scala che al momento sembra inesistente forse è proprio questo problema che è comunque una emergenza che ogni nazione mediterranea si trova ad affrontare potrebbe svolgere il ruolo di riavvicinare vecchi rivali e nemici la crisi dell'eurozona ha portato l'unione europea a mettere da parte la gestione delle relazioni con i paesi extra europei del mediterraneo anche se il pericolo di una grexit improvvisa è diminuito i problemi strutturali che afferiscono alla relazione tra paesi europei ricchi e poveri dovrebbero essere affrontati con maggiore preurgenza di quanto non accada al momento un esempio di questo rapporto sbilanciato è la migrazione interna all'unione europea verso un paese ricco e prosperoso come l'Inghilterra come è noto questo è stato uno dei problemi che si è presentato durante il dibattito referendario sulla Brexit in conclusione le prospettive relative alla creazione di nessi forti finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni tra i paesi del mediterraneo continua a restare evanescente il mediterraneo del ventunesimo secolo resta spezzato bisognoso di riparazioni trovandomi qui a parlare in un contesto universitario è bello pensare di essere alla presenza di una nuova generazione che senza dubbio riuscirà a trovare soluzioni creative a quello che è diventato un problema urgente e critico per il mediterraneo per l'Europa e per il resto del mondo e per l'Europa